Un carnevale turbolento, quello del 2014 a San Benedetto, con la polemica tutta incentrata sui carri allegorici. Il sindaco difende all'evento e attacca i gufi. Il sindaco prende atto di una situazione, di una situazione nella quale quei carri lì non possono rimanere. Perché? Perché la location non è adeguata. La sfilata è un conto, il lavorare all'interno degli anchor per poter fare la realizzazione dei carri di carta pesta devono essere fatti. Il sottoscritto ha firmato un'ordinanza. Questa ordinanza nel momento in cui arriverà nelle mani della persona diventa immediatamente efficace e quindi interdice l'utilizzo di quegli anchor per poter fare dei lavori. Questa è la sintesi. Dopodiché, io invito tutti a non essere ipocriti. Cioè se uno vuole che non si faccia il carnevale, non si nasconda dietro ai tecnicismi. Dica, poi magari spiega anche le ragioni, dica perché non vuole che si faccia il carnevale. Noi nella riperimetrazione degli spazi all'interno del porto, dei cantieri per intenderci, si liberano tre aree, che sono tre aree che dovranno essere messe a bando e dovranno essere date in concessione. Ho chiesto al comandante di valutare positivamente una nostra richiesta affinché una delle tre aree che si viene a creare nella riperimetrazione dei cantieri possa essere messa a disposizione per il rimessaggio dei quattro o cinque carri che in questo momento sono depositati all'ingresso nord del Ballarin e che dovranno trovare necessariamente un'altra collocazione perché, come è stato detto, in quegli anchor non ci sono le condizioni per poter lavorare in sicurezza.